rossa e nera ma è tutta green elettrica sostenibile la monovolume bmw i3s la più piccola compatta della casa bavarese quasi sette anni dopo il suo lancio sul mercato la bmw i3 è molto richiesta prodotto 200.000 bmw i3 fino d'oggi nello stabilimento della casa bavarese all'ipsia cari amici amici di scimotori questa volta saliamo a bordo della 100% elettrica della casa bavarese la bmw i3s questa è la sua voce è un suono particolare oltre a quello del rumore del rotolamento dei pneumatici guidare un'auto elettrica è molto più semplice di quanto si creda i veicoli elettrici oltre a essere più leggeri moderni sono in grado di semplificare le esperienze di guida rendendola più confortevole ci sono delle differenze rispetto a chi invece abituato a guidare un'auto tradizionale diesel o benzina prima di tutto né cambio né frizione una strumentazione diversa una guida appunto silenziosa l'accelerazione è progressiva è vero sì bisogna far riferimento all'autonomia programmando delle sosse magari per i viaggi lunghi oppure per i tragitti più brevi abituali non abusare magari di climatizzatore o riscaldamento che sono quelle che abbassano un po' l'autonomia e cosa importante le emissioni sono ridotte al minimo oltre al fatto che c'è libero accesso a zone ZTL e centri storici grazie appunto al ridotto impatto ambientale basta vederla che si capisce proprio il suo design rivoluzionario simbolo dell'innovativo claim delle BMW i3 e i3S evidenziandone così l'aspetto dinamico e sicuro di sé è costruita con materiali leggeri dallo sviluppo alla produzione fino al riciclo della vettura molti dei materiali impiegati nella realizzazione di questo veicolo provengono da risorse rinnovabili e sono fabbricate con energia green al 100% l'i3 è caratterizzata da un abitacolo in fibra leggera di carbonio montata su uno stabile telaio di alluminio che le conferisce una straordinaria agilità e una maggiore autonomia grazie al peso ridotto e al baricentro abbassato il motore elettrico e drive è montato direttamente sull'asse posteriore aumentando in tal modo la trazione il motore però si è sempre dimostrato pronto e reattivo e con una semplice pressione sull'acceleratore l'auto riprendeva immediatamente velocità e come? può contare su un powertrain in grado di erogare 184 CV e 270 Nm di coppia e le prestazioni sono davvero notevoli inoltre il modello S che è quello che stiamo provando oltre a un motore leggermente più potente dispone di ammortizzatori con taratura specifica molle e stabilizzatori dedicati e un assetto ribassato nelle curve in salita si è apprezzata la precisione che l'auto può offrire nessun problema ad affrontare anche dislivelli in città l'E3 si fa apprezzare per il raggio di sterzo maneggevole e molto agile nei cambi di direzione torno sul punto autonomia perché? ho notato che una volta inserito nel navigatore la mia destinazione l'autonomia cambia ovvero crolla e questo cambiamento deriva dal fatto che la percorrenza residua viene ricalcolata in base al tragitto che si dovrà compiere quindi risulta essere un'indicazione molto più precisa e dovendo effettuare un viaggio di determinati chilometri all'apparenza la macchina evidenziava un margine molto basso punto bagagliaio beh, il motore elettrico è collocato sotto il piano di carico e quindi ne limita un po' l'altezza utile e la capacità amici amici al volante della i3s non solo ho apprezzato l'esperienza di guida totalmente elettrica ma anche la posizione di guida che è eccellente integrata nell'auto ma al tempo stesso panoramica per accomodarsi sulle due poltroncine posteriori rimangono come in precedenza le piccole portiere contro vento apribili solo dopo aver sbloccato le anteriori la sistemazione è un po' costretta ma sufficientemente confortevole certo bisogna farsi un po' la mano per salire e scendere la nostra prova con la i3s termina qui ma vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di fare tanti tanti like un bacio da Silvia e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti